Superga, 1706. Nel quadro della guerra di successione spagnola si inserisce il celebre assedio di Torino del 1706, che vede la sua simbolica rappresentazione nell'eroico sacrificio del soldato minatore Pietro Micca, caduto nel tentativo di sbarrare agli assedianti l'accesso alla cittadella. Per oltre cento giorni la capitale dell'allora Ducato di Savoia venne chiamata a difendersi dagli assalti di circa 45.000 soldati, francesi e spagnoli. Il lungo assedio ebbe termine con la battaglia di settembre, che vide le truppe austro-piemontesi guidate dal duca Vittorio Mediosecondo e dal suo cugino, il principe Eugenio di Savoia Suasson, respingere gli assedianti, obbligandoli alla ritirata. Negli anni successivi all'evento si affermò la consuetudine di celebrare il 7 settembre la ricorrenza della vittoria con la solenne cerimonia del rinnovo del voto di Superga. E ci si lega alle origini della basilica e quindi al voto mariano fatto dal duca per liberare la città in cambio della costruzione di un'incredibile architettura barocca che rispettasse il culto mariano, appunto la basilica di Superga che venne costruita dal 1717 e inaugurata nel 31 sotto re Carlo Emanuele III. Nei sotterranei trova spazio il seppolcreto dinastico che accoglie le spoglie mortali dei sovrani sabaudi da Vittorio Mediosecondo a Carlo Alberto. Il sito si impone nel paesaggio urbano come elemento dominante scenograficamente collocato su uno dei punti più alti della collina torinese e in collegamento visivo con la zona di comando e con il castello di Rivoli. Croce Reale, Laboratorio Piemonte e piemonteis.org in collaborazione con le guide di Cultural Way vi propongono una visita guidata ad uno dei monumenti barocchi più celebri della città di Torino. Ringraziamo Paolo Barosso per il tributo fotografico e documentaristico.